Benvenuto a Pillole di Business, la tua dose quotidiana di pochi minuti dedicati alla crescita del tuo business. Oggi voglio parlare di posizionamento, shopping natalizio e del mio libro preferito. Sì, per le vacanze sono andata a fare un po' di shopping natalizio in libreria. Sono un'elettrice seriale e volevo questo libro. Ricordati di sorridere di Daniele Di Benedetti. È stato il libro che ho trovato più bello del 2018. Per cui lo volevo regalare, lo volevo regalare alle persone a cui tengo. Un libro motivazionale ma non solo, un libro che ti fa andare a fondo e scoprire in un viaggio verso la tua felicità. Leggo quello che c'è scritto. La felicità è già dentro di te. Smettila di rincorrerla e inizia a viverla. Io stavo rincorrendo proprio questi libri nel senso che non li trovavo. fin tanto che scorgo il libro proprio nell'ultimo scaffale, quello più vicino Rasoterra, praticamente di fianco a dei libri sul femminismo. Insomma, non c'entravano assolutamente niente. E per cui ho preso le mie coppie, però mi sono detta, scusa ma questa è la cosa più bella che io ho letto nel 2018. E deve essere lì. Qui si parla di felicità, la gente ne ha così bisogno e la lasciamo nell'ultimo scaffale. Per cui ho detto, dai, facciamo qualche cosa per aiutare mondadori a vendere cinque coppie in più. Le coppie? No, aiutiamo le persone. Quindi ho preso i libri e li ho messi nel baccone, quello proprio appena arrivi all'ingresso. Non ho fatto tempo ad arrivare alla cassa che c'erano già altre tre persone che avevano preso tre coppie. Questo perché puoi avere il prodotto migliore del mondo, ma devi spendere anche un po' di tempo per posizionarlo bene. Daniele Di Benedetti l'aveva fatto perché aveva scelto Mondadori, quindi la posizione è. Però anche chi ha dei negozi deve saper intuire qual è la posizione per ogni prodotto. Devi conoscere il prodotto che vendi per poterlo posizionare esattamente dove merita di essere. E quindi non pensare solamente al prodotto, ma pensa anche alla promozione, alla posizione. Ci vediamo alla prossima pillola e non dimenticarti di leggere il libro.